Buon pomeriggio a tutte e a tutti, sono Emanuela Mastria, sono molto emozionata di essere qui nella biblioteca vallicelliana nel Salone Borromini per la presentazione del cortometraggio Desdemona per la regia di Ludovica Valeri. Il cortometraggio è liberamente ispirato all'otello di William Shakespeare e come vedrete mette al centro della storia la protagonista femminile Desdemona. Come molti di voi ricorderanno nella primavera del 2021, qui nel prestigioso Salone Borromini ho esposto l'installazione intitolata Il fazzoletto di Desdemona, che ho dedicato alle donne vittime di femminicidio. Per me è un grande onore poter presentare il cortometraggio proprio nel luogo in cui è stato girato e spero che questo crei per voi un'esperienza davvero suggestiva. Ringrazio profondamente la direttrice della biblioteca vallicelliana Paola Paesano per aver accolto la mia proposta con entusiasmo. Ringrazio la dottoressa Anna Villa per la gentilezza, per la disponibilità nell'organizzazione di questo incontro e ringrazio tutto il personale della biblioteca vallicelliana. Abbiamo scelto questa data perché è in prossimità del 25 novembre, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'incontro è realizzato in collaborazione con l'associazione Cassandra, qui è presente anche la presidente Barbara Pelletti, psichiatra. L'associazione Cassandra supporta le vittime di violenza, isolamento, stalking e discriminazione. A seguire la proiezione ci sarà un dibattito con Paola Paesano, Barbara Pelletti e gli attori Gabriele Ciccotosto e Pasquale Smiraglia che hanno prestato le loro voci per interpretare Otello, Iago e Brabanzio. Ringrazio inoltre l'attrice e regista a Ludovica Valeri che non può essere presente per motivi di lavoro. Grazie e buona visione. Chiedo a Paola Paesano, direttrice della biblioteca vallicelliana e a Barbara Pelletti, psichiatra e presidente di Cassandra, e agli attori Gabriele Ciccotosto e Pasquale Miraglia di raggiungermi qui per il dibattito. Come dicevo, il cortometraggio è liberamente ispirato all'otello di William Shakespeare e mette al centro della storia la protagonista femminile. Fin dal titolo abbiamo voluto porre l'attenzione su Desdemona ed è una scelta molto precisa che la regista e io condividiamo. Desdemona è una giovane donna ribelle, una donna libera che disubbidisce a suo padre per amore. È lei che sceglie di stare con Otello, di lasciare Venezia e seguirlo sull'isola di Cipro. A un certo punto però qualcuno si intromette nella loro storia d'amore e Otello, lasciandosi confondere la mente da Iago, perde il rapporto con la donna che ama e da cui è amato. Desdemona è innocente. Nelle ultime pagine del libro Desdemona percepisce la violenza di Otello, intuisce che sta per essere uccisa, ma non si sottrae, non si ribella più. Personalmente la scena che mi ha più colpita del cortometraggio di Ludovica Valeri è quando l'immagine di Desdemona sparisce dietro il fazzoletto in movimento. Prendo in pressito le parole della psichiatra Elena Scacco. Vi ricordate il mercante di Venezia? Bassanio, per sposare la bella Porzia, avrebbe dovuto scegliere uno scrigno tra quello d'oro, quello d'argento e quello di piombo. E cosa doveva esserci nello scrigno? L'immagine di lei. Shakespeare ci dice che un uomo per avere una donna ne deve prima trovare l'immagine, ma forse non è così misterioso. Quante volte avete sognato la donna o l'uomo che vi piaceva prima di avere il coraggio di avvicinarla o avvicinarlo? Prima compare l'immagine inconscia e poi viene la ricerca del rapporto, quel rapporto che deve andare oltre il desiderio, alla ricerca della realizzazione umana propria e altrui. In questo rapporto non c'è posto per il possesso, genericamente riconosciuto come il caposaldo di quella gelosia che fa dire a Otello è mia oppure non è più mia e che quasi sempre nasconde un delirio vero e proprio. La depressione di Otello è il suo sentirsi sporco e nero, scrive Shakespeare, che non gli permette il confronto con l'immagine bianca e pulita di Desdemona, o più esattamente non gli permette di vederne l'immagine bella. Lui altera quell'immagine e arriva a ucciderla, vittima del calcolo e della menzogna di uno iago che con lucidità e odio mortale lo conduce passo passo a dubitare di sé, della propria capacità di conoscere e della propria sanità. La storia di Otello, raccontata anche nel bel film di Orson Welles, ci fa chiaramente vedere la dinamica psichica che fa malare, così ci raccontava Elena Scacco sulla rivista Il sogno della farfalla. Il cortometraggio Desdemona, diretto e interpretato da Ludovica Valeri, è stato realizzato all'interno della mia installazione intitolata Il fazzoletto di Desdemona, che molti di voi hanno visto qui nel Salone Burromini nella primavera del 2021. Ho realizzato cento sculture fluttuanti di porcellana bianca dedicata alle donne vittime di femminicidio, uccise ingiustamente come Desdemona nella tragedia shakespeariana. Con la curatrice Michela Becchis, che ringrazio e che oggi non può essere qui con noi, c'è stato un confronto continuo durante tutta l'elaborazione del progetto. Ogni scultura è stata realizzata attraverso una particolare lavorazione, che prevede l'impressione di Merletti e raffigura un fazzoletto da donna con le iniziali scritte in rosso della persona a cui è dedicato. Se osservata in controluce, la traccia lasciata dai merletti sulla superficie della porcellana crea un effetto visivo analogo alla filigrana nella carta. Ho iniziato questa ricerca in seguito al femminicidio di Sara di Pietrantonio. Il primo fazzoletto che ho dedicato è dedicato a lei. Vincenzo Paduano ha ucciso Sara di Pietrantonio il 29 maggio del 2016 nel quartiere della Magliana di Roma. Vincenzo Paduano, dopo averla strangolata, le ha dato fuoco. Sara di Pietrantonio aveva 22 anni. Il giudice che ha seguito il caso ha osservato come il bel volto di Sara, i suoi capelli dorati, i suoi grandi occhi, il suo seno siano stati completamente devastati dal fuoco. Non posso dimenticare quello che ho provato leggendo la sua storia. È stato allora che qualcosa è cambiato dentro di me. Io non voglio dimenticare e penso che chiunque conosca la sua storia non possa dimenticarla. Come artista non posso impedire che altri uomini uccidano altre donne, ma posso dire quello che penso e suscitare una riflessione su questo tema con la mia opera. Vorrei che nessun uomo togliesse la gioia di vivere ad una donna. Vorrei che nessun uomo togliesse la vita ad una donna. È merito della collaborazione tra la psichiatra Barbara Pelletti e l'avvocata Stefania Iasonna, che è qui tra il pubblico, che hanno seguito l'intera vicenda processuale del caso di Sara di Pietrantonio, se abbiamo una nuova giurisprudenza in tema di stalking e violenza di genere. Quando ho immaginato l'installazione avevo un'idea molto precisa, raccontare l'orrore con delicatezza. E penso che con questo cortometraggio, Desdemona, anche la regista Ludovica Valeri si era uscita in questo intento. Siamo in una biblioteca e i fazzoletti di porcellana che volano liberi nell'aria potrebbero sembrare delle pagine uscite dai libri che raccontano la storia di queste donne. La speranza è nella ricerca di un rapporto uomo-donna sano, in cui sentire profondamente l'altro, in cui cogliere la bellezza di un messaggio nascosto dietro uno sguardo, un sorriso, un gesto. Come quando lasciar cadere un fazzoletto era un invito all'avvicinamento, all'incontro, alla libertà di cogliere o meno il senso di quel gesto. Ringrazio ancora la biblioteca Vallicelliana per aver accolto il fazzoletto di Desdemona e la proiezione del cortometraggio Desdemona. Questo luogo ha un significato speciale per me, perché la biblioteca è il luogo del silenzio e della conoscenza. Ci interessa molto la vostra opinione sul cortometraggio che avete appena visto e quindi vorremmo anche sapere le vostre sensazioni, emozioni che vi ha suscitato, quindi se dopo avete delle domande siamo qui. e passo la parola alla direttrice Paola Paesano. applausi non so è suono però mi sentite? Sì, perfetto. Allora beh intanto io ringrazio Emanuela Mastria e ringrazio anche la regista di questo corto perché rinnova l'emozione di questa poetica denuncia che nel vedere adesso appunto nel rivedere il salone con con l'installazione in corso e con e con una desdemona in vita insomma no e diciamo la dimensione vibrante sia dell'installazione sia del video sia dell'idea insomma che Emanuela Mastria ha avuto nel nel concepire questo che si può si può definire un davvero un un monumento una sorta di altare di altare rovesciato che che appunto in quanto monumento invita a non a non dimenticare mi appunto ripeto non so non so se a voi ha dato la stessa la stessa sensazione ma insomma c'è un c'è un un riverbero ulteriore di di patos di e di denuncia e di denuncia dolente di di questo della tragedia appunto del femminicidio che a quanto pare non non ha mai fine io avevo preso degli appunti in quella occasione e li vorrei riproporre per ricordare in qualche modo insomma le le impressioni che la che l'installazione ma anche in qualche modo la rilettura del dell'otello della tragedia di Shakespeare mi aveva suscitato intanto vorrei dire che la suggestione e la tenerezza monumentale che la giovane artista Emanuela Mastria in scena con il suo fazzoletto di Desdemona è di cambiare il titolo a quella che Shakespeare aveva chiamato la tragedia di otello Mastria pone al centro della scena non il moro di Venezia non l'abbaglio non la perdita della ragione non la debolezza della credulità che lo perde la sottomissione alla seduzione dell'inganno il danno di vite umane la gelosia accecante come tradizione vuole ma pone al centro della scena il fazzoletto di Desdemona appunto che è poi il fazzoletto che otello le aveva donato e che diventa il fazzoletto di tutti i personaggi della tragedia di Iago che vi costruisce attorno l'inganno di Cassio che se lo ritrova in mano di Emilia che ignara delle trame del marito lo sottrae a Desdemona ma il fazzoletto è anche un manufatto che porta tutta l'attenzione sul femminile che dice cose che hanno a che fare con la delicatezza con la fragilità con l'innocenza la purezza e luminosità del bianco con la gentilezza la trasparenza e la leggerezza ed è anche un oggetto che ha a che fare con le mura domestiche con il telaio il ricamo e anche con il contatto con il corpo non solo con la mano ma anche con gli umori del corpo ora di tutta questa lieve e animata materia l'artista aveva appunto fatto un monumento e lo fa volteggiare al centro dello spazio di un altro monumento nella fissità solenne di cento stendardi e così facendo innalza e teatralizza una denuncia muta e struggente nello spazio scenico il fazzoletto di Desdemona prende tutte le forme che le dà una mano viva ogni singola scultura mette in scena quel gesto il gesto di Desdemona declinato in cento varianti come a dire tutti i gesti di Desdemona viva ma al contempo in questa specie di altare rovesciato e sospeso ciascun fazzoletto che parla di una Desdemona viva è dedicato a una Desdemona uccisa ad altre cento sfortunate ricordiamo che questo è il significato letterale del nome di origine greca di Desdemona ogni fazzoletto intende ricordare il nome e il cognome di una vittima di femminicidio il fazzoletto di Desdemona parla al tempo stesso di ciò che lei è caro e di ciò che l'ha nienta dell'amore e della morte della libertà e della violenza libertà di scelta ricordiamo che Desdemona si lega a Otello contravvenendo alla volontà del padre Brabanzio perché va infine detto che la tragedia di Desdemona è una tragedia che non finisce mai come ben sappiamo ancora oggi è il fatto che non le è accreditata neppure la tragedia che vede la sua fine la tragedia come dicevamo è quella di Otello del femminicida non solo nel titolo ben inteso Desdemona è per così dire solo il terreno su cui si esercitano in conflitto tra loro i sentimenti e circostanze di esclusivo interesse maschile la supposta fedeltà di Iago a Otello l'ammirazione di questo per l'arguzia e la logica ferrea di Iago la credulità di essere cornificati sia di Iago sia di Otello l'invidia per la carriera di Cassio da parte di Iago la disapprovazione delle nozze e il dispetto di Brabanzio con la sua insinuazione a Otello che la figlia è capace di tradimento come dimostra la disubbidienza della giovane al padre tanto tutto ciò è vero che il secondo femminicidio della tragedia l'uccisione cioè della moglie Emilia da parte di Iago è detta quasi di sfuggita e nessuno se la ricorda cioè ricordiamo di più la denuncia che Emilia fa sulla scena del delitto in cui inchioda appunto tutti gli astanti alla realtà oggettiva dei fatti che ha appunto accecato la volontà di Otello e che ha determinato la rovina di una innocente che aveva la sola colpa di essere una creatura desiderante in definitiva e di Otello stesso fra le altre cose questo adesso è un riferimento, una comparazione che mi era venuta di fare tra la tua opera in qualche modo che possiamo definire anche seriale è una sorta di, in questo caso perché si tratta proprio di un monumento collettivo con un altro approccio di un altro artista che anche qui ha esposto Federica Luzzi che appunto anche in quel caso aveva manifestato sempre in una dimensione di insomma fatemelo dire di richiamo al femminile comunque anche se è pericoloso insomma diciamo rimanere in questi schemi ma non saprei come altro definirlo e quindi appunto rilevavo l'analogia della passione appunto per così dire seriale di Manuela Mastria per le sue sculture in porcellana con quella di un'altra artista appunto Federica Luzzi che un anno prima aveva esposto sempre nella nostra rassegna della Vallicelliana nella sua serie Schelle che consiste in molteplici variazioni della conchiglia o della spirale ottenute con la tecnica del macramè annodando corde parrebbe di trovarci di fronte ad una analoga ossessione accesa da forme che rimandano appunto al loro modo all'universo del femminile per quanto sia davvero arduo e anche rischioso parlare di arte di espressione femminile è innegabile che la ripetuta varietà delle trame derivanti da una stessa idea matrice il lavoro tenace delle mani che raggiunge esiti di tale aerea solennità se è riduttivo e rischioso riferirlo a una sensibilità femminile appunto di certo la rappresentazione che ne deriva sprigiona un mondo di donna dentro e oltre una tradizione delle immagini simboliche e queste erano delle suggestioni insomma direi a caldo che mi avevano suscitato questa davvero emozionante installazione di Mastria e rivedendo il video un'altra considerazione che mi è venuta di fare e poi magari su questo anche mi piacerebbe sentire insomma anche voi dal pubblico è che proprio secondo me la tragedia di Otello rappresenta davvero l'inferno del patriarcato sono proprio queste che uccidono almeno rileggendolo alla luce nella chiave appunto che poi l'interpretazione che poi le ha dato Emanuela appunto estraendo il fazzoletto come il centro delle trame e del male dell'azione di soffocamento in definitiva come dicevo prima del diritto della donna al desiderio e sono le leggi appunto del patriarcato che uccidono la donna dopo averla irretita e che distruggono lo stesso Otello perché ricordiamoci che Otello in realtà non affascina Desdemona con la narrazione, con le parole ma in realtà con le gesta cioè con le gesta che racconta e cioè che sono gesta guerresche lei dice guardando, dice Desdemona guardando Otello non vedo che la sua anima e ho consacrata la mia alle sue virtù guerriere alla sua gloria così o illustri senatori se mentre ei parte per la guerra rimango qui derelitta come inutile arnese di pace mi reggo frustrata dei beni che me lo fanno amare insomma non c'è un annientamento totale della figura femminile nella tragedia ricordiamo tutte le forme di disprezzo che usate da Iago nei confronti di tutte le donne presenti dalla bianca amante di Cassio alla sua moglie la moglie stessa a Desdemona stessa che lui proprio di cui manifesta cioè manifesta il godimento di poterla portare da una dimensione celestiale e paradisiaca ad una infernale è il ribaltamento della totale innocenza bellezza divinità che 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 Desdemona rappresenta che lui e quindi e quindi Emilia viene viene invitata a tacere non non parlare taci ce le dice sempre no le dice sempre Iago e tanto che quando poi appunto Emilia dirà la verità sulla scena appunto del delitto il il gesto di Iago sarà quello di ucciderla insomma non c'è non c'è 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 il totale annientamento anche anche lo stesso fazzoletto che Manuela ha rintracciato e ha riprodotto anche ricordando anche riportando il disegno delle fragole no? perché c'è questo questo preciso riferimento nel testo di un disegno realizzato da una maga perché all'origine c'era il dono di una maga egiziana fatto alla madre di Otello con questo disegno di fragole fatto con il sangue del cuore di una vergine voglio dire si va indietro nel si va indietro in una dimensione magica in cui appunto c'è originariamente un sacrificio un altro sacrificio femminile no? che viene richiamato a a ulteriormente nutrire questa scena questa scena di morte delittuosa di appunto sacrificale ma insomma queste erano le delle così delle impressioni che mi faceva così insomma che mi interessava condividere ma non mi taccio perché mi sembra di aver parlato anche troppo e quindi passerei la parola appunto a Barbara e adesso la parola a Barbara Pelletti psichiatra e presidente dell'associazione Cassandra allora buonasera a tutti io in realtà anch'io a un certo punto ho buttato giù due appunti cosa che non faccio quasi mai però devo dire che è un po' la soggezione di fronte all'arte che in qualche modo intimidisce chi è abituato purtroppo a fare un lavoro diciamo un po' di creatività c'è anche nel nostro lavoro però ecco vorrei in qualche modo penso che questo poco che ho scritto risponda a quello che ha detto Emanuela cioè che lei non può con l'arte fermare la violenza del femminicidio invece io penso che ho pensato proprio partecipando a questa bellissima impresa e ringrazio davvero di avermi coinvolto Emanuela sia nella 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 prima fase cioè nell'installazione che poi nel nel cortometraggio ho avuto questa sensazione che invece l'arte proprio sia il canale attraverso il quale può passare un un cambiamento profondo quel cambiamento profondo che è assolutamente necessario perché questo che appare come un destino e concordo pienamente con Paola Pesano quando dice che tutta la tragedia shakespeariana è costruita in modo proprio da suggerire l'idea del destino a cominciare dal titolo dal nome di Desdemona che appunto viene dal greco diciamo nata sotto una cattiva stella destinata comunque no poi appunto ritorna nel nel fazzoletto che è stato appunto proprio costruito richiamando questa antica tradizione questa antica magia poi torna anche nel canto che si sente nel 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 cortometraggio insomma torna perché quella è una ballata popolare che era diciamo contemporanea era circolava evidentemente ai tempi di shakespear e che però shakespear trasforma perché la ballata popolare era la storia di un uomo che finiva ammazzato e lui in realtà la rovescia è vero che tutta la tragedia è la tragedia di di Otello a cominciare dal titolo però non so ecco non so se questa è la è l'effetto del di tutto questo percorso artistico che che abbiamo potuto seguire grazie a Emanuela ma io ho la sensazione che Shakespeare in verità mettesse al centro vero della della tragedia questa storia femminile quando ho letto sono andata a cercarlo ovviamente che quella ballata che avete sentito cantare così così diciamo con con questo canto che suscita un'emozione profonda quella ballata in realtà era la ballata di un uomo che finiva morto ammazzato per amore e che lui la trasforma nella ballata della donna che è pronta a morire per amore ho pensato che lui aveva in realtà un'intenzione di di denunciare quella violenza che c'è in quella tragedia che poi solo di nuovo una cultura troppo razionale troppo maschilista ha sempre letto in Otello nella tragedia di Otello il dramma della gelosia in realtà è un dramma in cui la morte arriva per tutti e arriva per una violenza che certamente è la violenza della cultura patriarcale ma ma passa attraverso dinamiche molto profonde nelle quali le donne hanno un ruolo un ruolo decisivo adesso vi leggo quello che avevo scritto perché comunque appunto mi faccio coraggio perché devo dire cose un po' un po' complicate e appunto mi è venuto di scrivere subito che parlo io qui psichiatra in questo contesto con il timore di guastare l'aria leggera e densa al tempo stesso che muove come fossero vivi i fazzoletti dell'installazione nella quale gli attori danno corpo e nuova vita a una tragedia che è universale senza tempo e senza confini come fosse quasi un destino al quale gli esseri umani non possono sottrarsi invece la bellezza dell'arte oggi mostra ancora una volta come proprio dentro l'universalità dell'opera dell'artista sia la chiave per la liberazione perché in pochi tratti in un singolo dramma teatrale nell'immagine dei cento fazzoletti nei pochi minuti di un cortometraggio si condensano pensieri che suscitano finalmente una ribellione quello di Desdemona è certamente uno dei femminicidi più illustri della storia devo dire che è uno dei pregi del corto che abbiamo appena visto a me pare stia nell'infilare come fossero perle i versi che raccontano le ragioni profonde della tragedia quello che dice quello che dice quello che dice Otello e la mia amò per i pericoli che avevo corso e io la mai per la pietà che nebbe e Desdemona ho visto il volto di Otello nella sua mente è il punto di partenza per un amore al quale manca l'elemento più vitale la reciprocità lei vede il volto di lui lui si rispecchia nello sguardo di lei ma non è come Narciso Otello ascolta la voce di Desdemona potrei essere dannato per quanto ti amo dice ma aggiunge quando non ti amerò più tornerà il caos il caos l'assenza di identità che espone Otello alla alla corruzione alla manipolazione portata avanti da Iago rappresentazione pura dell'invidia Iago è un proprio no la incarna l'invidia come solo poi i grandi grandi artisti sanno fare Shakespeare la rappresenta in un modo che penso sia magistrale no invidia che per noi psichiatri è negazione Iago è la sintesi della cattiveria del giudizio della cultura che nega l'identità della donna e la vuole morta anche in vita è l'essenza della cultura patriarcale alla quale solo uomini e donne che abbiano il coraggio di farsi un'identità nuova possono resistere Otello non resiste uccide per onore non per odio Otello che sembrava diverso moro in un mondo fatto dai bianchi per i bianchi obbedisce all'ogos alla legge del padre e Desdemona intona il canto del cigno la ballata del salice quella di cui vi parlavo presagio della fine è la rassegnazione Desdemona non si sottrae si prepara alla sua morte totalmente ingiusta il bel volto dell'attrice le voci calde e giovani degli attori rendono ancora più attuale il dramma la realtà è ancora questa uomini che perdono completamente gli affetti e si fanno sicari al servizio di un'ideologia malata e ormai moribonda e donne che non si sottraggono al loro destino perché non sanno farlo anche ma Shakespeare insinua che Desdemona che le donne non vogliano sottrarsi Desdemona in effetti rimane fino alla fine rassegnata a questo destino caccia via la povera Emilia che vuole restare con lei si prepara prepara il suo letto e canta la ballata del salice il canto del salice quello della donna che finisce ammazzata che le donne non vogliano sottrarsi se questo è ancora oggi vero lo è solo perché esattamente come al fondo della mente di Otello e dell'identità maschile legata all'onore più che all'amore c'è il vuoto il caos così nell'identità femminile che vive per l'altro trovando nell'annullamento di se stessa una realizzazione c'è la rassegnazione l'assoggettamento l'assoggettamento sono sottomessa dice Desdemona l'avete sentita nel nel corto è una splendida dichiarazione d'amore fatta da una ribelle all'autorità paterna che però può permettersi la ribellione perché è la stessa di sua madre ecco concludendo io vorrei ringraziare Emanuela Mastria per il suo lavoro perché solo l'arte ha la capacità di attraversare il tempo e i confini angusti della ragione e illuminare la mente non cosciente degli esseri umani se un cambiamento è possibile è solo grazie al coraggio di vedere ed estirpare le radici più profonde della violenza spezzando la catena che la rende ereditaria come fosse scritta nel genoma umano e adesso vorrei ascoltare di nuovo le voci degli attori Pasquale Smiraglia e Gabriele Cicotosto eccoci qua buonasera a tutti buonasera io rilancio la palla nel senso avete delle domande perché altrimenti poi la comunicazione diventa unilaterale cose da dire domande sì vi prego diteli sì donne uomini noto che ci sono tanti uomini in sala e questa è una cosa bella di solito c'è sempre una partecipazione più femminile a questi eventi purtroppo e invece oggi vedo che siamo in tanti non ci sono domande di nessun tipo ok allora io direi che innanzitutto vi ringrazio vi ringrazio Emanuela Ludovica e voi perché è stato un viaggio un percorso molto interessante il fatto che si siano mischiate più arti insieme come la recitazione la scultura e allo stesso tempo anche il luogo ha fatto sì che poi tutto fosse pregno fosse più intenso e credo fortemente che realizzarlo qui all'interno della biblioteca vallicelliana non sia un caso poi le cose non accadono mai per caso perché siamo all'interno della cultura no? cioè ci giriamo intorno e c'è cultura ovunque e forse la tenerezza di Emanuela che ha questa sua vena tenera che però è fortissima cioè paradossalmente è una tenerezza che quasi ti prende a schiaffi insieme alla tragedia di Desdemona ha creato un qualcosa di veramente toccante e profondo quindi grazie intanto e poi sicuramente la violenza si combatte solo attraverso questo che è la cultura cioè una persona colta consapevole non ha bisogno di essere violento pur di arrivare vi ringrazio grazie a tutti passerei la parola a Gabriele Cicco Tosto e spero che abbiate domande alla fine veramente eccoci buonasera e anche io ne approfitto per ringraziare Emanuela di questa esperienza insomma io ecco per non ripetere ciò che ha detto Pasquale che poi però è ciò che ho provato anch'io vi passo una delle immagini che mi ha colpito di più durante tutto quanto questo percorso che è stato il momento in cui abbiamo messo in prova quello che era il testo di questo cortometraggio e la cosa molto bella è che abbiamo avuto la possibilità di provare il testo proprio qui nella biblioteca nel momento in cui era installata quest'opera di Manu e quindi abbiamo avuto modo di sederci al centro della sala e eravamo sotto questi fazzoletti l'immagine di cui vi stavo parlando è stato il momento in cui siamo entrati proprio in mezzo e nel fare questi passi tra i fazzoletti che che pendevano ecco abbiamo ovviamente smosso dell'aria perché camminando questo ha fatto sì che questi fazzoletti intorno a me si cominciassero a muovere a volteggiare e ecco lì ho capito ho detto forse è questo quello che diceva Pasquale nulla accade mai per caso noi eravamo lì per un motivo dovevamo prendere qualcosa dovevamo capire quasi il motivo per cui eravamo lì e mi sono guardato intorno e è come se avessi sentito l'anima di tutte queste donne si stavano muovendo ho capito profondamente il senso di quest'opera e ho preso un'immagine potentissima che ho riportato per tutto il tempo in cui abbiamo lavorato poi il testo e cosa che ho rivisto anche questa sera quindi è stato per me un processo creativo molto particolare che appunto mi smuove ancora se ripenso a quella sensazione che ho provato nel momento in cui mi sono guardato intorno e penso che che questo era uno degli obiettivi sicuramente di quest'opera appunto poi l'obiettivo di ogni opera d'arte è dare un'emozione questo a me io non ho fatto altro che dire questo Emanuele è arrivato assolutamente e penso la stessa cosa si veda io quantomeno l'ho riprovata questa sera rivedendolo in video la stessa identica e sono molto felice di essere una parte di quelle che hanno fatto sì che quella cosa diventasse non in tre dimensioni perché già lo è assolutamente ma che prendesse una dimensione in più ancora quindi grazie a tutti e grazie ancora Manu grazie davvero e ci piacerebbe tantissimo ascoltare insomma le vostre suggestioni sapere cosa vi ha suscitato che emozioni avete provato e oppure se avete domande o curiosità siamo qui grazie innanzitutto grazie veramente perché devo dire che tutto quello che avete detto voi è passato esattamente così da questo cortometraggio e io che ho avuto modo di seguire tutta la vicenda dal 2016 fino a oggi e che insomma ci sono stati per me per noi tanti momenti molto forti di commozione devo dire che oggi mi sono veramente commossa come poche volte mi è successo dal 2016 a oggi quindi ti ringrazio molto grazie grazie veramente io vorrei fare i complimenti a Manuela sono una collega di Manuela e normalmente le colleghe non fanno i complimenti ma siccome sono anche una carissima amica e la amo nelle cose che fa perché c'è un rigore c'è una serietà che non sempre nell'arte viene applicata c'è una disciplina molto forte che si sente Manuela e si sente in questa installazione c'è un lavoro che non è soltanto che porta tutti questi contenuti forti che avete elencati voi c'è una serietà dell'artista in questa installazione vorrei parlare della serietà dell'artista e l'impegno di un artista forte militante anche quando non se ne rende conto che io che è la figura dell'artista che secondo me ha la sua ragione d'essere oggi al di là del concettuale al di là dell'arte insomma passatemi il termine fuffosa questa è è l'arte quando si rappresenta secondo me nella modalità e nella finalità più degna si sente che c'è sudore lavoro molto ragionamento nulla di questa installazione è casuale cioè come collega devo dire che già glielo dissi all'epoca perché vedi l'installazione ma poi raramente si riesce a riprodurre la suggestione quando fai un video diciamo comunque un'opera che può essere una video installazione o comunque correlata all'installazione difficilmente riesci a riprodurre quella quella forza no di espressione ecco invece sì invece sì complimenti a voi anche le voci sono intense gli uomini non sono presenti ma ci sono e non dico altro puntini puntini cioè ci sono ci siete ma c'è lei che è tutte loro cioè bella la scelta di tutto e basta non dico più niente perché sembra che mi hai telefonato prima diciamo ecco però sì veramente non mi aspettavo che il video potesse essere a livello della suggestione dell'installazione anche io lavoro tu lo sai Manuela a questo tema e so quanto è difficile arrivare anche se studi tanto alla fine forse non arriva a tutti perché il linguaggio dell'arte è complicato non è vero che è così semplice è complicato perché non è solo intellettuale deve aprire le porte del cuore e molto spesso arriva per ragionamento ma non arriva alla parte quella più profonda e qui ci sono tutti e due i piani e Sergio Angeli che è un altro artista da 30 anni che lavora in questo senso la pensa esattamente come me perché ne abbiamo tanto parlato di questa installazione quindi complimenti a Manuela ecco questo grazie Monica Pirone io approfitto per raccontarvi che durante questo lungo lavoro di due anni e mezzo in cui ho realizzato i fazzoletti e ho partecipato ad una performance intitolata Portrait of Woman al macro ed è stato veramente molto emozionante se avete la possibilità lo potete cercare su YouTube è stato veramente molto intenso anche perché oltre a noi che lavoriamo su questo tema era presente anche l'artista messicana Elina Chauvet che ha realizzato l'installazione Zapatos Rokos Scarpe Rosse che tutti quanti abbiamo nel nostro immaginario e che è sempre di grande ispirazione e forse qualcun altro ha alzato la mano io vado una domanda appunto per Manuela perché dal 2016 a oggi come dire forse hai capito hai individuato cos'è che ti ha colpito così profondamente della storia di Sara cioè rispetto appunto a tutti gli altri femminicidi alle donne che comunque tutte le altre storie di donne insomma che possono essere altrettanto toccanti insomma invece cosa è che proprio di Sara ti ha colpito così e ti ringrazio molto per questa domanda e sono contenta che qui tra noi ci sia anche Tina Racuia la mamma di Sara di Pietrantonio con cui ho avuto appunto l'occasione di di parlare di conoscerci e dunque quello che mi ha colpito in particolare della storia della storia di Sara è il fatto che oltre a la violenza efferata di Vincenzo Paduano che si è scatenato appunto con il femminicidio prima di ucciderla Paduano non era mai stato violento fisicamente non le aveva dato mai neanche uno schiaffo ma era molto violento di quella violenza invisibile che è più difficile da riconoscere perché cercava di isolarla di allontanarla dalle amiche dagli amici e la controllava continuamente la seguiva e appunto qui il reato di stalking va preso in considerazione perché è reale e le chiedeva le password dei social e lei le dava perché magari non aveva nulla da nascondere ma in realtà questa è una grandissima violazione della privacy quindi piano piano le stava togliendo come dice anche Tina la gioia di vivere e quindi non bisogna sottovalutare questi questi segnali perché a volte ci possono confondere possono sembrare dei segni di attenzione di interesse e invece non è così perché il controllo che diventa poi persecuzione e non lo è bisogna lasciare l'altro libero secondo me nelle storie d'amore io la vedo così se Barbara Pelletti vuole aggiungere beh allora ci sarebbero tante cose da da dire perché quella storia la storia di Sara ha colpito al cuore tantissime persone io ricordo sempre a costo di diventare ripetitiva che il movimento non una di meno in Italia è nato sulla scia di questa di questa vicenda è nato come reazione proprio all'uccisione di Sara non solo perché è stata appunto così così tragica la morte di Sara così efferato proprio l'omicidio tanto proprio da sconvolgere tutti e finalmente suscitare nella mente delle persone anche la domanda che cosa accade no che cosa può spingere quello che sembrava un ragazzo normale cioè un ragazzo come tanti ecco io credo che una motivazione vera profonda sia che erano due ragazzi come tanti innanzitutto proprio figli di famiglie diciamo normali per capirci no Tina è un funzionario dello Stato i genitori di Vincenzo Paduano altrettanto loro si sono conosciuti facendo gli animatori in un campo estivo per bambini questa storia è nata come una una bella storia d'amore questa è la cosa più più sconvolgente la cosa più sconvolgente è che forse questa più di altre vicende ha proprio messo quello che fa anche Shakespeare messo a nudo la questione di come una storia d'amore possa finire in tragedia e ci costringe queste storie come queste ci costringono a domandarci appunto veramente a fondo che cosa accade nella mente dell'uno e dell'altro perché no Sara per esempio io insisto su questo perché mi preme moltissimo io seguo tantissime ragazze donne che in qualche modo potrebbero diventare la prossima vittima di non soltanto perché abbiamo poi deciso di fare questa associazione ma proprio nel mio lavoro di psichiatra e di psicoterapeuta io dico sempre che non ho scelto di occuparmi di violenza contro le donne mi sono trovata nei fatti a dovermene occupare perché arrivavano queste donne che stavano malissimo molto depresse molto e a volte del tutto inconsapevoli di quella che era evidentemente la causa della loro depressione della loro malattia la violenza soprattutto psichica che subivano nel nei loro rapporti con gli uomini e dico soprattutto psichica psicologica perché poi appena appena grattando un po' la superficie si scopriva che magari erano costrette ad avere rapporti sessuali che non volevano avere che erano insultate che venivano insultate che venivano sottoposte a forme di violenza che non sono più invisibili insomma sono proprio come dire macroscopiche tangibili e allora veramente la domanda è che cosa accade perché che cosa trasforma in tragedia in violenza una storia d'amore e qui viene tutto il discorso della cultura di questa cultura patriarcale che io ripeto me lo sono scritto perché mi è venuto in mente grazie a questo cortometraggio più che mai perché l'installazione di Emanuela era veramente potentissima come hanno detto anche gli attori e quindi proprio sconvolgente perché metteva al centro di questo discorso proprio la vita delle donne ecco quei fazzoletti effettivamente sono vivi ti riportano l'immagine forte di queste vite spezzate di queste vite però ecco il corto fa questo passo ulteriore di in qualche modo proprio dare corpo e voce a questo dialogo tra l'uomo e la donna tra gli uomini e la donna e lì si vede chiaramente che proprio c'è il destino sta nell'identificazione che ogni uomo fa con diciamo per capirci il padre il padre che tramanda una certa cultura e nell'identificazione che ogni donna fa con la madre che a sua volta tramanda una cultura che è complementare cioè il patriarcato non è soltanto la storia degli uomini è anche la storia delle donne e bisogna prendere consapevolezza di questo le tante donne che io appunto ricevo che mi raccontano storie di violenze subite che stanno vivendo storie di violenze si ammalano innanzitutto questo vorrei che fosse chiaro cioè ci sono le morti troppe sappiamo quali sono i numeri ma c'è un'ecatombe proprio quotidiana di donne che che perdono tutte le loro possibilità proprio la possibilità di realizzazione di una vita in questi rapporti violenti quindi io dico però che insisto Monica ho capito bene il nome Monica diceva io vorrei che voi artisti vi come dire vi sentiste più fieri di quello che fate più più sicuri che quello che fate è proprio quello che va fatto per arrivare al cuore delle persone perché è vero che si deve arrivare al cuore delle persone per per provocare una reazione ma io io credo di non essere l'unica ecco anche Stefania un po' diceva la stessa cosa che veramente venendo qui a vedere l'installazione a suo tempo e poi vedendo il corto in cui l'installazione fa non fa solo da scena insomma è vero che è viva proprio come fosse proprio l'anima di questa allora veramente ho sentito e devo dire anche per rendere omaggio agli attori che sono qui stasera che ho sentito che siamo quando dico il patriarcato è moribondo penso che siamo veramente a questo punto e che voi potete dare una spinta decisiva a tutto questo perché la ragione non ce la fa non ce la fa perché è la ragione stessa la matrice di questa cultura e quindi è solo con l'arte che no? mi piacerebbe che il patriarcato fosse moribondo il fatto è che invece il mondo il nostro mondo è esattamente quello in questo momento di Shakespeare perché è il mondo della guerra cioè la realtà del la cultura che circola nella tragedia di Otello è la cultura delle armi Otello è un soldato è un combattente un guerriero un generale il suo luogotenente lo è altrettanto ha tolto il suo ha tolto il posto a Iago che appunto è invidioso Desdemona ama in lui l'eroe il combattente non ama il corrispettivo di Sherazade che racconta una storia accaduta ad altri racconta la sua storia di soldato di soldato che combatte i mostri che vince che è un eroe è il mito dell'eroe ed è questa dimensione eroica associata all'uomo che fa sì che poi si parli di onore perduto e quindi anche di suicidio dopo avere dopo avere ucciso la appunto l'amata no e e quindi io non lo so se il insomma la guerra i sentimenti i sentimenti di guerra la cultura di guerra in questo in questo momento nella in Europa è molto forte e la cultura indubbiamente la cultura e l'arte combattono tutto questo contrastano tutto questo e soltanto in questo possiamo confidare in questo sono d'accordo altro che altro che però però l'inferno del patriarcato secondo me è esattamente è l'inferno della guerra che appunto vede poi vittime e soprattutto le donne sono le donne come in prima persona e tutto ciò che è tutto ciò che è prodotto dal lavoro delle donne dal lavoro di riproduzione di cura e quindi insomma il femminicidio rientra io credo in questa in questa cultura che ancora non è tutt'altro che che sterminata e di cui non sono consapevoli sempre le donne anche le femministe alcune volte allora è vero il patriarcato alle ore contate e il macismo invece è ancora più forte di prima sì ora solo una battuta pure io volevo solo dire che l'idea che il patriarcato sia morente moribondo l'ho condivisa nel senso che lo penso da molto tempo perché ci si domanda sempre se la violenza contro le donne sia anzi si dà per scontato che sia un problema strutturale in quanto radicato nella nostra cultura eccetera però poi non si può negare che sia anche una questione emergenziale perché qui abbiamo tutti i giorni se contiamo non solo i femminicidi gli stupri le cose non ne usciamo è una roba terribile quindi sapete i delitti i crimini diminuiscono i crimini generici quelli in famiglia di questo tipo aumentano quindi c'è anche un'emergenza e ho condiviso questa idea che il patriarcato sia moribondo con Lella Paladino che è stata la è tuttora insomma una femminista attivissima ed è stata la presidente di dire delle donne in rete contro la violenza che è la rete delle reti delle donne che è una sociologa che giustamente dice che ecco perché Monica sono d'accordo con te è vero che il macismo si sta prendendo sta tentando di prendersi una rivincita lei diceva che questa violenza così straripante che viviamo adesso è proprio quel colpo di coda perché quando i sistemi autoritari e la cultura autoritaria che li sostiene sono moribondi diventano più violenti e io sono convinta di questo cioè che è un dato incontrovertibile che le donne hanno sopravvanzato gli uomini in tantissimi campi ma pensate a Orban che adesso ha proprio fatto un decreto in base al quale le donne perché facciano figli con la motivazione gli dà soldi per fare figli perché dice le donne sono andate troppo avanti perché hanno posti studiano tantissimo non trovano più uomini a loro livello questo è il problema quindi adesso le rimaniamo a casa con tanti soldi per fare figli però è vero che le donne sono andate avanti che non si fermano più Sara a modo suo se n'era andata e tutte le donne se ne vanno oggi un tempo non potevano è vero che c'è la guerra ma ci sono anche tanti giovani che non proprio disertano manifestano contro la guerra questo non accadeva in passato manifestano scappano la Russia c'è una un'emorragia di giovani che se ne vanno fortunatamente voleva fare una domanda sì no no non volevo fare una domanda solo una considerazione vabbè io purtroppo ho visto solamente il documentario e adesso stando qui mi rammarico profondamente ma non sapevo all'epoca vivevo in un'altra città quindi non potevo vedere l'opera di Manuela chiaramente già solo dal luogo e vedendo l'immagine fissa del documentario capisco che doveva essere un'esperienza molto coinvolgente intanto però faccio i complimenti per il documentario che ho visto e che è l'opera anche di altri artisti quindi molto emozionante quindi quello che volevo dire era solo relativamente al fatto dato che c'è anche una psichiatra qui di sottolineare che non si tratta di storie d'amore che vanno a finire male ma come diceva prima Manuela sono forse storie di violenza che apparentemente sembrano storie d'amore all'inizio perché altrimenti mi viene un po' d'angoscia a pensare che le storie d'amore poi possono finire in questo modo ecco questo eh ma accade certo che viene l'angoscia viene a tutti l'angoscia però accade accade perché ma forse non è la parola giusta d'amore no 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 quelle cominciano come storie d'amore il problema è che l'attimo dopo noi diciamo sempre che eh l'innamoramento è un po' una ricreazione della nascita che succede quando nasce un bambino succede che quello si eh si butta con anima e corpo perché è tutt'uno tra le braccia della madre vive la sua prima storia d'amore quando ogni volta che ci si innamora e io credo anche nella mente malata e vuota di chi poi arriva fino al punto di ammazzare si riaccende qualcosa può durare un attimo ma questo accade ecco e la la tragedia è che l'attimo dopo comincia a venire fuori la malattia che purtroppo evidentemente è già ha già attecchito dentro dentro la mente delle persone ma ogni storia d'amore della vita di una persona è un tentativo di ricreare quella storia con cui nasciamo quella come dire quella purezza con cui nasciamo quella umanità con cui nasciamo che ci spinge tra le braccia dell'altro no poi evidentemente le delusioni arrivano presto purtroppo arrivano presto anche perché le braccia della mamma spesso sono state soprattutto nel passato ecco perché anche abbiamo speranza che le cose cambino sono state le braccia di donne frustratissime depressissime perché private violentemente della loro identità nel momento in cui i due si incontrano una scintilla io lo so perché me lo raccontano tutti vengono e mi dicono uomini e donne ma io l'ho amata questa persona ma io ma non è sempre stato così è come se volessero giustificarsi per il fatto che non riescono a uscirne quando l'amore non è più amore perché arriva il momento purtroppo prestissimo a volte in cui quell'attimo in cui si è ricreata un'umanità e una si trasforma nella bruttezza più più nel nel disfacimento proprio no è così però effettivamente che succede io dico sempre a tutte le donne e gli uomini di andarsene subito appena quello accade appena sentono che sta accadendo a trovare il coraggio di andarsene perché altrimenti quel germe poi attecchisce e diventa veramente disfacimento macilento poi è così però non si può negare che ci sia un momento perché altrimenti cioè penseremmo che le persone abbiano soltanto quella cecità e quella violenza no tutti gli esseri umani hanno qualcosa che potrebbe il problema è che bisogna diffondere appunto una conoscenza che permetta alle persone di riconoscere quello che accade e di appunto di interrompere la caduta in questa la caduta proprio verticale in questa storia di malattia di violenza e di morte lei come psichiatra non crede che per ammazzare questo patriarcato che diciamo che sia ammesso che siamo che siamo ribondo però bisogna fare un lavoro e mi pare che da quando insomma con i vari femminicidi eccetera purtroppo si fa molto lavoro ma soprattutto sulle donne si parla soprattutto della donna che è stata stuprata violentata o ammazzata vabbè lasciamo aperto ma non si parla mai degli uomini i quali uomini secondo me sono loro che potrebbero spingere i loro simili a superare questo io dico complesso nei confronti della donna l'uomo noi abbiamo fatto molti passi avanti e si dice comunemente che gli uomini non ci stanno dietro ora la parte ben pensante degli uomini è sufficientemente stimolata verso gli altri come dire sono loro che dovrebbero aiutare gli uomini portati alla violenza a superarla noi donne cosa possiamo fare d'altronde noi li possiamo rifiutare sì ok d'accordo certo ma non crede che il certo ma non crede che siano proprio gli uomini tra di loro non lo fanno allora posso dire una cosa allora Vincenzo Paduano va fiero di quello che ha fatto io addirittura avevo capito ma il contesto in cui vive o le persone che frequenta allora adesso sta in carcere e per ora siamo tranquilli che stia là perché se no uno così è il nuovo Izzo quello del Circeo esce e lo rifà ecco il problema è che gli uomini questi uomini perché appunto per fortuna qui ce ne sono tanti stasera e anche questo è un segno di novità non crede che potrebbero lavorare di più questi uomini questi uomini stanno lavorando eccoli qua diciamo il punto è che quegli altri io lo dico sempre che la storia del patriarcato è la storia di un rapporto uomo-donna violento ecco perché qualunque storia d'amore poi ricade cioè violento perché appunto è fondato sulla negazione proprio dell'identità della donna una negazione che la donna fa sua perché qui si vede benissimo no allora il punto è che si può uscire da tutto questo realizzando che l'uomo che rimane attaccato a quella che oggi non possiamo più chiamare un'identità su questo non c'è ombra di dubbio è un uomo io faccio difficoltà in altri ambienti a dire che è un uomo oggi più che mai malato perché quella storia è stata una storia di violenza di potere ma portarla avanti oggi è patologia se non altro perché è un anacronismo chiaro? e il vivere come se fossimo nel nel seicento oggigiorno insomma non è poi l'attualità la tragedia shakespeariana è ancora terribilmente attuale perché proprio coglie queste dinamiche che sono l'ho detto è un'ecatombe perché un sacco di donne stanno male e potrebbero vivere una vita pienissima e non ci riescono perché non si tolgono da rapporti violenti poi curandosi ci riescono diciamo perché li rifiutano alla fine allora quel tipo di uomo lì non si mette in crisi non c'è niente da fare io per esempio dice gli uomini centri per gli uomini maltrattanti ma che cosa non c'è verso non si mettono in crisi ma perché hanno proprio un vuoto mentale e poi ne hanno fatto troppo una identità di tutto questo non avendo una vera identità umana ci hanno solo quello non ci si mettono io dico sempre che si divide in due grandi categorie la popolazione che potrebbe arrivare alla cura con una richiesta di cambiamento cioè appunto una metà arriva alla cura con una richiesta di cambiamento l'altra è malata nel senso che proprio diffonde germi patogeni ma non ci non entra mai non si sente mai male fa stare male gli altri rovina gli altri uccide gli altri non so come dire quello è il punto è il problema per cui è un germe patogeno che si può arrestare solo in un modo non deve più trovare terreno su cui attecchire per questo in questo senso le donne devono sviluppare una sensibilità una resistenza che allontani la violenza subito finché sia in tempo perché quando si va a fondo poi più si va a fondo nel rapporto e più si va a fondo anche nelle dimensioni carenti e malate dell'uno e dell'altro e dopo non se ne esce più a meno che qualcuno non decida di curarsi di fare un passo di no? questi maschietti ancora risentono del passato delitto d'onore sì il cambiamento parte anche qui dalle donne dalle donne sì da noi come madri bravissima esattamente non è troppo materna nei confronti dei compagni no perché questo io non sono un'esperta per carità per cui osservo veramente soltanto così osservo un po' la cronaca un po' anche certi casi personali e questo questa dimensione materna no? di cura di accoglienza molto spesso la si vede anche proprio diretta nei confronti del compagno del compagno malato no? e al quale si concede ancora una possibilità no? di cambiamento a me quello che quello che colpisce forse anche il caso di Sara di Petrantonio in questo senso ci tocca moltissimo anche per questo perché in qualche modo è un testo anche no? di che si conosce e c'è questo questo in fondo questo dare un'ultima possibilità questo affidarsi comunque dare fiducia no? ancora al compagno cioè un'ultima volta andare a ascoltare la loro la sua ragione no? e questo e questo è mortale perché perché appunto non è amore è desiderio di distruzione di incorporamento di distruzione e alle volte anzi spesso anche di autodistruzione quindi quindi sì deve partire dalle donne che devono che devono se ne devono andare quando c'è questa dimensione tossica se ne devono andare e basta non c'è ma qui ancora il patriarcato incide secondo me perché ti induce ad essere accogliente a dare fiducia ad essere a non essere egoista a non pensare soltanto a te stessa no? e quindi questa è una cultura profonda è una cultura profonda lo scambio tra l'atteggiamento appunto materno nei confronti del figlio nei confronti della figlia nei confronti del compagno del marito è un po' no? c'è sempre questo rischio assolutamente quella è la questione appunto per cui De Sdemona si innamora Otello si innamora di De Sdemona perché lei lo ama per il suo valore per ciò che ha patito e lui per la pietà che lei ha di lui Otello è una vittima capito lei si innamora di lui lo dice per ciò che ha sopportato e quindi lui adesso merita questo porto merita me merita il paradiso ma è chiaro che comunque addirittura lei pensa che questo valga il sacrificio della sua vita fino in fondo questa è la storia delle donne purtroppo non possiamo negarlo certo che però mi ha colpito molto la proprio la chiarezza della non so come si chiami la signora che ha che ha detto allora siamo noi donne come madri che deve partire dai bambini certo perché una donna che abbia un'identità non alleva mi colpì tantissimo lo racconto sempre il presidente dell'EMPAM l'ente di previdenza dei medici che io ente che io detesto perché ci piglia ci ruba un sacco dei soldi va bene comunque diciamo quando trovai sto presidente a una conferenza stampa e disse ah meno male adesso ci vado a parlare e gliene dico quattro poi invece ho cambiato idea perché questo ha fatto un discorso pazzesco cioè lui ha detto io ho fatto il pediatra tutta la vita ok una conferenza stampa sulla violenza in senato sulla violenza contro le donne dice io sono qui a portare la mia testimonianza vi posso dire che cosa ne penso penso che la violenza che oggi purtroppo sta diventando emerge di più ma comunque sta diventando endemica e così preoccupante così io vedo da dove viene perché che succede vedo queste famiglie no madre padre bambino vedo che le mamme tirano su il bambino maschio no come se come come prescritto cioè il bambino maschio non deve capire niente di affetti di sentimenti di cose di questo genere di cose la femmina sì no che succede poi che qui quelli crescono e un giorno si incontrano e si si innamorano e poi la ragazza oggi non ci sta più al fatto che l'altro non capisca niente di affetti di sentimenti d'amore eccetera e quindi poi per forza a un certo punto dice senti così non va bene e ovviamente quello che non ha non capisce niente di affetti di sentimenti non li ha sviluppati non li ha non si è nemmeno ribellato a questa situazione non sa cosa fare ecco perché diventa violento perché non sa che fare non ha gli strumenti non regge proprio la come dire questo confronto questa non sa che cosa attingere ma questo è la storia che sono le madri che ancora oggi fin da quando il bambino solo per avere il pisellino invece che la patatina che è ancora un bambino senza diciamo una chiara definizione sessuale perché non è quello il punto già comincia da lì il condizionamento comincia e comincia ancora prima nella misura in cui la madre purtroppo lo dicevo prima se non ha un'identità e non ha una consapevolezza di quello che significa quel rapporto che va a fare col bambino se non c'ha una sua realizzazione umana poi che cosa passa ai figli no passa qualcosa che è assolutamente devastante mi ha colpito perché ho letto un bellissimo libro dico questo e poi mi taccio che si chiama la resistenza delle donne in cui non pensavo di trovare un'osservazione di questo tipo è un libro di Benedetta Tobagi che è uscito da poco che appunto è una bella bella percorso nella storia delle donne che hanno fatto la resistenza per diciamo capitoli temi eccetera a un certo punto arrivato al capitolo perché le donne entravano nella resistenza perché il padre era un partigiano perché il fidanzato l'innamorato era pure un partigiano perché il fratello perché non so perché il padre era un antifascista dice sì ma non solo perché seguivano gli uomini anche le madri ci hanno messo del loro c'erano le donne che erano pure loro antifasciste c'erano le donne che avevano chiaramente avevano chiaro che la guerra il fascismo erano contro l'essere umano e lo manifestavano chiaramente cioè poi c'erano anche quelle che dice una mia amica evidentemente ho pensato io psicoterapeuta che ama le madri sufficientemente cattive quelle che se cito testualmente quelle che se sopravvivi al latte nero di invidia infelicità e frustrazione allora diventi una che spacca il mondo non so se mi spiego è chiaro perché poi l'identità delle donne può essere proprio la chiave di volta di questa di questa rivoluzione che è necessario fare perché la violenza quella del rapporto uomo-donna quella delle guerre quella di questa cultura che tutta in tutti i modi propone la violenza come natura umana finalmente venga superata ma c'è adesso un ministro che ha detto che che devono essere umiliati gli scolari non allineati e quindi voglio dire insomma sono dobbiamo pensare che siano colpi di coda di un sistema che viene comunque contrastato e combattuto da da tante altre parti no ci sono tante altre però la voce la voce ufficiale ufficiale e governativa in questo momento l'impostazione è tutta un'altra cioè è di è di è violenta è è una cultura violenta bisogna prenderne atto ha vinto in questo momento ha vinto questa bisogna resistere e lottare prenderne atto è poco bisogna cioè la società non è questo per fortuna ovviamente no non è questo ma la cultura la cultura a me ha fatto molto piacere che insomma che ci sia stato ci sia stata tanto come dire una una partecipazione e un riferimento al a luoghi no come come questo che appunto fanno fanno opera di cultura di cura per l'appunto io credo che sia ancora prima che esercizio di di cultura sicuramente è un'opera di cura che va nella direzione che che ospichiamo per per contrastare appunto la violenza per contrastare la violenza e per contrastare anche lo spirito di competizione che comunque è del nostro tempo è della nostra cultura e che e che comunque porta spinge anch'essa anche la competizione spinge alla violenza e quindi anche per esempio i lavori le espressioni d'arte di pensiero che sono anche collettive che rimandano anche a un collettivo per esempio come anche in questo caso no credo anche che anche questo che anche questo abbia una un potere educativo e e di trasformazione di cambiamento insomma per nella direzione che ci che ci interessa e a cui appunto siamo oggi insomma su cui siamo toccati così nel profondo non so se possiamo giocciare grazie grazie ancora a tutti e grazie alla biblioteca Vallicelliana alla direttrice Paola Paesano alla psichiatra Barbara Pelletti e all'associazione Cassandra grazie a Ludovica Valeri che come dicevo non poteva essere qui per motivi di lavoro grazie a Pasquale Smiraglia e a Gabriele Cicco Tosto e ringrazio anche la dottoressa Anna Villa e tutto il personale della biblioteca Vallicelliana grazie a Ferruccio Antonucci e un ringraziamento speciale a Kim Hermes per la parte tecnica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti